Si chiama Kaiden Casio di Salt Lake City, ci troviamo nell'Aiuta, Stati Uniti America e pensate che ha ripreso la sua simpatica amata gatta che ha incontrato la neonata appena arrivata a casa e ha letteralmente vomitato. Un incontro così, nato forse da nulla, inaspettato, tanto che ha provocato poi il vomito proprio della gatta. I genitori hanno condiviso le immagini sul web, il video è diventato, ripeto, molto virale e ha veramente dell'incredibile. Il video si trova su TikTok, la gatta si chiama Covfefe, è il nome del famoso tweet del presidente di Al-Tap, del presidente degli Stati Uniti America, che è diventato attesso virale, la gatta grossa di dimensione, non usa la bimba, subito dopo si allontana e quindi va a vomitare, la gatta vomita, non la bambina chiaramente, ok? Lo specifico perché forse non si era capito. Per questo, grazie a tutti voi utenti di YouTube il video termina qua. Si tratta di un gatto che si è un ragdoll di Lynch, colore di cioccolato che ha tre anni di età un apporto stretto proprio col proprietario, ma anche con gli altri proprietari e dividerli proprio con qualcun altro non gli è piaciuto tanto, tanto che ha avuto questa reazione di andare a vomitare. Da narratore italiano di YouTube Italia è tutto, ciao a tutti e una buona giornata.